Nelle prossime ore è atteso il transito di una nuova perturbazione, tuttavia la pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento. Venerdì pressione in calo sul Mediterraneo occidentale e minimo depressionario in graduale approfondimento sul Golfo Ligure. In Toscana giovedì 22 novembre nuvolosità variabili con ampie schiarite, venti deboli di direzione variabile o assenti, mari poco mossi, temperature minime in aumento, massime quasi stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Sul territorio provinciale inizialmente qualche debole pioggia ma migliora nel corso della giornata. A Lucca e sulla Piana temperatura minima 9 massima 15 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 6 massima 16, a Viareggio sul litorale minima 11 massima 17 gradi, venerdì peggiora con piogge fin dalla mattinata, temperature minime in aumento.